Come prenderanno i soldi? Il sindaco è una persona intelligente, non mi ha mai espresso questo suo volere di costruire l'ospedale a Piero Daccio, io sono convinto che se c'è la possibilità e ci sarà la possibilità di valutare il sito di Villa Mosca sarà il primo a dire le mie stesse parole. Il problema è sotto gli occhi di tutti, basta parlare con la gente, abbiamo la relazione della Corte dei Conti, abbiamo liste d'attesa che addirittura sfiorano i due anni, i 360 giorni per la piccola chirurgia per esempio al presidio di Giulia Nova che la Lega ne aveva fatto una bandiera, abbiamo sulle colonoscopie, sulle TAC, sulle risonanze magnetiche a contrasto, tempi di attesa di 400 giorni, 300 giorni, 280 giorni, non si può dire a persone che soffrono, che attendono di essere curate, di attendere addirittura mesi o anni e nel frattempo la patologia non aspetta, avanza. Non sono informatizzate le liste d'attesa l'asri termo, quindi questo non permette di avere una radiografia chiara della situazione delle liste d'attesa. D'altra parte di ricorrere a tutti i mezzi, anche quelli di acquistare prestazioni dei privati, perché prima viene la salute dei cittadini e poi vengono le battaglie ideologiche che qualcuno ha portato avanti negli anni. Il direttore di Giulia ha pochi mesi che lo separano dalla sua verifica, deve recuperare tanto terreno, deve prendere delle decisioni, sono stato molto chiaro, dirci come troverà e dove troverà i soldi, dove costruirà l'ospedale, come andrà ad abbattere le liste d'attesa. Lo inviterò, come ho fatto più volte in passato, a fare battaglie per l'idea di secondo livello per Teramo. Non possiamo perdere la neurochirurgia, la cardiochirurgia, la stroke, perché parliamo di patologie di tempo determinate che potrebbero mettere a rischio la salute di tutti i cittadini terramani.